Buongiorno, il mio nome è Marta Panisi e sono Italian Ambassador per AmgenTeach. L'impatto di AmgenTeach sul mio metodo di insegnamento e sul modo in cui insegno è stato sicuramente positivo perché ho imparato a vedere il modo in cui posso strutturare una lezione in maniera più efficace, in maniera più utile e anche più immediata in modo da avere una struttura migliore della lezione all'inizio e alla fine. L'impatto del metodo IBS sui miei studenti è straordinario perché si trovano protagonisti di una lezione nella quale loro stessi decidono naturalmente in maniera graduale qual è il loro modo di intervenire su un argomento e quindi quando io presento un topic loro immediatamente iniziano a ragionare su quali sono le possibilità di indagine a proposito della tematica. In Italia è molto importante che impariamo a lavorare con le scienze in maniera sperimentale, questo è fondamentale perché spesso e volentieri i nostri laboratori sono diversi da un laboratorio universitario, sono naturalmente laboratori di scuola superiore o addirittura di scuola media, laboratori che spesso sembrano non avere potenzialità, al contrario con il metodo IBS si capisce molto alla svelta quanto sia semplice strutturare un'esperienza e anche immaginare quali possono essere le diverse soluzioni e la relazione tra questo e anche la vita e la pratica di tutti i giorni in classe.